Allora Francesco, è la cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi. Francesco, fai tu perché io... No, capisco e credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua. Non abbiamo ancora... Abbiamo Davide Loretti in collegamento, penso se me lo confermano, dalla regia, dall'ospedale San Raffaele. Guardate, abbiamo preso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c'è il TG5. C'è lo speciale ovviamente del TG5, grazie per averci seguito, grazie Fede. Ciao Francesco. Grazie. 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 Grazie a tutti.